Considerando che è una nuova esperienza, un nuovo modo di fare cinema attraverso questo sistema in professione digitale, abbiamo cercato di fare delle proposte che potessero avere una loro logica. Direi che, tutto sommato, possiamo essere abbastanza soddisfatti di come siamo partiti. Per il momento il maggior successo l'abbiamo avuto alle pomeridiane con l'opera e con il balletto. Grazie a tutti. È stato stupendo. Piacevolissimo. Era quello che ci aspettavamo perché un posto così ideale per lo spettatore credo che fosse un'opportunità da non perdere. È bellissimo anche perché adoro il balletto, perciò è una cosa piacevolissima. È molto valido quello che ci aspettavamo che ci fosse una cosa del genere, grazie infatti al comune. È tantissimo. Anche quelle belle potrebbero farne ancora di più. Sì, bello, bello, delle belle scene. Sono stati bellissimi. È molto valido. Sì, bello, delle belle scene. Sì, bello, delle belle scene. Molto, moltissimo. Direi che è un'ottima iniziativa e spero che continui a programmare cose così belle. Sì, diciamo che lo schermo appiattisce un po' le figure, ma il sonoro è un magnifico, i colori sono belli. Lo schermo si appiattiscono un po' le figure che penso siano riprese. Ora, ora che faccio non solo teatro, ma anche cinema, anche di più dovrebbero farlo.